Portare la vicinanza concreta del Papa, sensibilizzare ancora le autorità e al tempo stesso studiare come aiutarle in questa situazione e nel prossimo futuro e ringraziare quanti si stanno prodigando per la popolazione. Con questi propositi il Cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e recentemente nominato inviato personale del Papa in Iraq, si appresta a recarsi nel paese del Golfo, precipitato in una situazione di insensata violenza che sta colpendo soprattutto i cristiani e le minoranze. Domenica il porporato ha incontrato il pontefice che dopo avergli ribadito il dolore per questi tragici accadimenti gli ha dato le sue personali indicazioni per la missione, affidandogli anche una somma da impiegare per aiuti urgenti alle persone più colpite.